Nel derby valido per il recupero della diciottesima giornata, il Pineto vince per 0-1 sul campo del San Nicolò Notaresco in vantaggio e Biancazzurri con una splendida punizione del solito Minnozzi. Nella ripresa non succede più nulla, dunque si allunga il gap in classifica del Rosso Blu contro il Campobasso, invece inizia a staccarsi dalla zona più calda della classifica il Pineto sognando i playoff. Calcio d'inizio per gli ospiti, si sblocca subito il match, Minnozzi disegna una traiettoria perfetta che si insacca sotto il 7, Ashiba battuto, un gol da vedere e rivedere, i Biancazzurri provano ad allungare, Minincleri pesca Mesisca in corna ma pallone fuori alla destra del portiere Rosso Blu, i padroni di casa si affacciano alla mezz'ora, Palumbo conclude dal limite, Mercorelli blocca senza problemi. Nel finale ancora Minnozzi tiro cross su punizione che pesca Romano in spaccata volante che non riesce a scaraventare in porta la sfera. Nel secondo dei tre minuti di recupero Marchionni pescato nel cuore dell'area Biancazzurra conclude in modo sballato sprecando l'assist del compagno. Nella ripresa le due formazioni provano a cercare il barco giusto senza riuscirci, il Pineto cinico va vicinissimo al raddoppio sul calcio d'angolo, la sfera viene salvata sulla linea e sulla carambola, Mesisca colpisce la parte inferiore della traversa, i Rosso Blu provano a rispondere con l'ex a quadro su punizione, palla sopra il montante alto. I ragazzi di Epifani da sette minuti dal termine a quadro serve Olcese che si allunga il pallone a tu per tu con l'ex Mercorelli. Nel finale Galeano già ammonito lascia i suoi in dieci, nei cinque minuti di recupero non succede più nulla, il Pineto conquista l'intera posta sul campo del notaresco e continua la sua marcia trionfale verso le zone più nobili della classifica. Occasione sfumata invece per l'undici di casa.